buonasera amici come state benvenuti in live siamo tornati a me è passata la febbre sono guarito da ogni tipo di male e ci siamo mossa della potenza all my fellas cacca addosso non dice questo non dice questo oggi oggi non no oggi non i did not did the cacation cosa ho detto una cosa sbagliatissima in inglese allora grazie a reddy per il prime a mirco per il quinto mese a siroblads per l'ottavo a vivi per il secondo mese a lara dice quadrata per il terzo mese ti saluto il mio cane willy ciao willy so che sei bellissimo amici siamo tornati come vi avevo detto ero in pandora smp obbligatorio dovevo esserci però purtroppo mi sono svegliato troppo tardi il risveglio doveva essere venerdì insieme a tutti per seguire la lore io purtroppo arrivo in ritardo arrivo in ritardo allora intanto ciao nacuo grazie al sedicesimo mese e foca monaca grazie al sesto ciao belli intanto punto esclamativo telegram a tutti i sub che hanno la sub sul canale per entrare nel gruppo telegram se non avete la sub c'è il prime valutatela la seconda cosa la seconda cosa signori è che siamo tornati su pandora è bellissimo perché mancava un sacco di tempo nuova stagione per chi non sa che cosa è pandora si tratta di un server minecraft con tantissimi creator italiani il cui scopo principale non è giocare a minecraft cosa si gioca a minecraft e nello scopo non è giocare a minecraft esatto ma sarà quello di creare contenuto creare una storia creare degli intrecci di lore tra tutti quanti e ci saranno delle delle situazioni interessanti insomma intanto grazie a colmi mary per per il nono mese grazie grazie di cuore per il nono mese colmi mary e bentornata e io devo farvi sentire qualcosa sentite un po la riconoscete beh sì in qualche modo è roleplay sul canale polduncut ricaricherò tutte le live ma io non io voglio 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 entrare basta 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 voglio entrare è passato troppo tempo è passato troppo tempo voglio entrare dovrei stare qua a ringraziarvi perché il video di oggi è andato benissimo dovrei stare qua a ringraziarvi per tutte le sub tipo tipo a mic blast e a colmi mary e vorrei stare qua a dirvi tipo tantissime cose l'unica cosa che voglio che sappiate è che questo universo che state vedendo di pandora non è la season scorsa quindi molti personaggi della season scorsa sono canonici alla scorsa season ok ok sì lo so già me lo state chiedendo adesso vi rispondo io sono entrato io sono entrato io ci sono ok perfetto vedo tutto nero penso sia normale penso sia perché sono creogenizzato perfetto e adesso che cosa si fa e ora non si fa nulla ovviamente quella era gandhi madonna non si sente è magnifico non state sentendo voi trailer con i controcazzi cioè introduzione non trailer perdonatemi god mi sono venuti i brividi mamma mia raga altro universo tecnicamente ora mi dovrebbero no sono ancora frozen perfetto va bene finalmente l'ho lavorato canonicamente il tuo personaggio è in ritardo sì il mio personaggio sì sì si è ancora congelato va bene è un altro universo ragazzi è un altro lo so me la state facendo questa domanda nella prima season c'era carlos nella seconda season non mi ricordo chi c'era c'è stato enzo mi pare nella terza season c'è stato gold nella quarta season ci sarà qualcun altro ragazzi lasciate stare gold nella terza season questo è un altro universo qua gold non è canonico ok non è canonico perché berro fronzo appena scritto ah io devo intanto scrivere tipo live on ah non posso fare nulla tu sei canonico sì sono canonico gold purtroppo non è canonico dove sta ora gold sta nella nella terza season ragazzi è fermo là è in quel in quell'universo nell'universo della terza season serve una wiki per pandora sta diventando troppo complessa ma soprattutto perché io sono ancora bloccato criogenizzato quello che cazzo sia adesso chiami i miei avvocati oh mio dio se appoggio il telefono alle cuffie mi iniziano a fare un tipo un che strano non avevo mai provato questa cosa esci e rientra no ho appena scritto adesso mi rispondo no no mi avevano detto che il nero all'inizio è normale penso stia caricando penso mi sto mi sto scongelando aiuto qualcuno mi aiuti qualcuno mi aiuti come si parla aiuto e il team at piderma e anche il team at piderma è un un personaggio canonico delle vecchie season uoio che cazzo è stud ecco già si si sbrugna correttamente nei pantaloni adesso proprio si sbrugna nei pantaloni ciao ulia c'è grazie al secondo mese ciao fram grazie al ventisettesimo stay in guard ventinovesimo night cure grazie al dodicesimo e splat monster grazie del decimo ci abbiamo fatta ora l'hai fatta la caccio no ancora sto aspettando posso andare nelle impostazioni intanto perfetto fatemi vedere giusto una cosa music che finisce qua ok direi perfetto che è qua perfetto fatemi vedere i controls se ho tutto giusto ok binds dove era minchia quante cose voice chat eccola push to talk v ok parlo con la v qua ti scongeli il prossimo anno ma come faccio a scongelare mi metto tipo un fogherellino sotto le palle qualcuno mi liberi mortacci vostra se premo la v tecnicamente mi sente qualcuno c'è qualcuno allora qualcuno sta seguendo pandora dove sono in questo momento precisamente mettiti in terza persona e non si vede nulla dei morti alla velocità della luce sedotto terra poldo gli altri sono in superficie allora mi sentite non mi sente nessuno perfetto pandora inizia nel migliore dei modi è che ragazzi avevo mi sono scongelato troppo tardi è una mia pecca lo so sì semplicemente credo che si siano tutti cosa cazzo sono sti suoni sì sì l'ho già avvisata la rana ho già detto che sta risolvendo assolutamente assolutamente grazie aiuto chi è che fa oh è lui è lui è lui è lui ragazzi vi avete dimenticati di me pezzi di merda scusami poldo scusami scusami mantenete tutti la calma non c'è nessun problema va tutto bene riesci a parlare sì sto parlando mi sentite ok dimmi un po' qual è il tuo nome poldo 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 era facile segna tutto qua ok poldo hai qualche memoria di dove ti trovi cosa stavi facendo e non ricordo nulla purtroppo mi dispiace bene bene sta tremando è normale è stato appena scongelato poldo esci oh dio sono sono vivo sono vivo adesso ti devo spiegare un paio di cose amico mio aspetti un attimo prima da quanto cazzo state giocando oh scusami 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 mi ero dimenticato mi ero dimenticato perdonami 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 sto qua adesso non ti preoccupare poldo avrai tutto il tempo di maltrattare il tuo amico una volta usciti da qua perfetto perfetto ma dove siamo esattamente la situazione sei un polaretto siamo in un laboratorio sotterraneo dove tengo i superstiti alla grande guerra distruttiva e vi risveglio e vi faccio vivere felici e contenti sul terra di sopra spero che sia tutto bene chiarissimo è molto carina come cosa grazie bisogna sapere che c'è stato un grandissimo casinissimo tanto tempo fa e la vostra civiltà è stata distrutta dalle terribili forze del male e le forze del male sono ancora tuttora qua in circolazione voi siete gli ultimi superstiti e adesso dovete prepararvi io sedia no no ce ne sono altri ce ne sono altri quanti? perché ho un po' ansia delle persone per adesso sono una decina mi pare no troppi vabbè torno indietro no 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 non tornare indietro no 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 fuggire amico mio anzi dovrai darti molta forza perché le forze del male sono pronte a tornare e ad attaccare il nostro il nostro bel vivere questo che vedi qua è Elvio il mio assistente se hai qualche domanda puoi parlare con lui non capirai assolutamente di quello che dice ma poi capisci tutto quello che dici ok ci provo Elvio quanto ci stanno le gotolette a cucinare circa? ha detto 5 minuti 5 minuti e per questo devi tenere sempre d'occhio così le puoi anche girare perfetto grazie ti spiego che molto semplicemente io adesso sto controllando ognuno di voi perché siamo in questo luogo felice e molto sicuro dove le forze del male non ci possono raggiungere perché siamo circondati da delle mura no siamo sotto terra adesso ti porto di sopra come quando esci dalla Sicilia tipo ti si disattiva il pvp adesso ti porto di sopra non ti preoccupare seguitemi arrivo il fatto è che ora dovete prepararvi perché prima o poi le forze del male torneranno ad attaccarci e voi dovete essere pronti le forze del male le abbiamo chiamate Imps ma l'avete già chiamata la polizia o qualche ente simile la polizia non c'è più da tanto tempo sium ma da me che emozione che possiamo ottenere è quella che noi conquisteremo contro le forze del male quindi ce l'abbiamo fatta e questo è il tuo nome giusto? si 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 molto bene lei è scusi? io sono il dottor Franconio Franconio bellissimo nome Franconio seguimi Poldo ma è del sud Italia devi fare molta attenzione perché alcuni degli animali che puoi vedere qua intorno sono le forze del male mimetizzate veramente? esatto come quel pollo che vedi laggiù uccidetelo pezzo di merda pezzo di merda ho un normale polletto non l'ho ammazzato no pezzo di e ha detto che le forze del male l'ho ucciso così ora le forze del male sanno che noi sappiamo della loro presenza seguitelo cioè le forze del male sono i vegani che sa no i polli seguimi ah i polli ok bello comunque ma comunque vedo che stanno costruendo tipo questo che è il palapartenope no è lo stadio questo è la casa di Berro Bonzo Berro Bonzo? ho un amico che si chiama in un modo molto simile questa posta di lava rappresenta il nucleo della nostra città questa po- e ti pareva ovviamente sono caduto anch'io qualcuno mi può spegnere non vi preoccupate morirete serenamente rinascerete con il no 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 non voglio morire sono appena tornato però andrà tutto bene addio anche la morte fa parte dell'esperienza che dovete vivere tutti perché combattere contro le forze del male richiederà a voi di morire grazie mamma Elvio volevo dire Elvio 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 allora stavo dicendo questa posta di lava rappresenta il centro della nostra città quindi Poldo ti viene richiesto di costruire non troppo lontano da questo luogo oppure aggregarti ad altri con altri tuoi amichetti io se vuoi posso condurlo io in un luogo va benissimo non mi interessa l'importante è che rimanete uniti e ricorda Poldo per ora non potete uscire dalle mura perché le forze del male vi stanno aspettando quindi quali mura però non vedo nessuna mura eh te le faccio vedere io ora non puoi vederle ma quando ti avvicinerai le vedrai ora ho trovato questo nella tua cella criogenica prendi è tuo freddy fuzzbear freddy fuzzbear oh mio dio ma questa cosa è canonica freddy fuzzbear mi va bene va bene me lo prendo grazie è molto utile è molto utile ma non so bene ultima informazione ascoltatevi bene se scavando trovate sottoterra delle teste di legno con una faccia dovete prenderle e portarle dentro la lava e bruciarle perché quelle sono spie delle forze del male oh come le teste con la faccia vanno bruci i coreani tu bruci no i nord coreani testa di legno con la faccia grazie mille grazie mille con la testa di legno perfetto bene se non c'è altro mi congedo sì grazie io ho un'ultima domanda dimmi ma visto che la razza umana è stata come avete detto sterminata cioè umana la nostra razza è stata sterminata quindi i polaretti non li producono più no stiamo lavorando per produrli in futuro se io e Elvio abbiamo questa priorità eh non vi scordate i tatuaggi però che erano assolutamente no molto importante perfetto grazie dottor franconio per avermi introdotto al mondo ah devi sapere che quell'oggetto che porti in mano è un'antica reliquia quindi fai la sua attenzione no perché a lui l'antica reliquia a me no ma allora scaccia le forze del male quindi devo stare attento che non mi venga rubato se gli offrite un diamante vi darà un dono dovete piazzarlo a terra prima ah perfetto grazie grazie prego ragazzi andate a giocare con gli altri bambini arrivederci dottor franconio o Elvio arrivederci poi se c'hai qualche episodio di dragon ball di quelli nuovi da passare a me servono subita preferisco ce li ha masterizzati freddy fuzzberg ecco appunto pandora smp ciao bello come stai sei tutto freddo levati madonna puzzi di congelatore ma sono caduto nella lava letteralmente come faccio a essere freddo e puzzi di pollo adesso allora allora chicken nuggets chicken nuggets allora io ti faccio vedere dove abbiamo fatto la pipì la prima volta ah perché effettivamente un po' mi scappa ti sei dimenticato dove avete fatto la pipì la pipì di là di là aspetta fammi vedere di qua di qua è vero di qua c'è uno stinchi atomico stinchi non sono io perché sono io aspetta fammi sentire stinchi test vieni vieni no 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 fammi sentire va bene no stinchi test failed tutte le volte pannolino is the new way pannolino è una bella parola quindi cosa state facendo ma che è sto posto allora io non lo so che posti sono questi ho trovato una testa no 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 non devi rubare le cose oh mio dio è una testa con una faccia buttiamola non posso no 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 allora mi raccomando stiamo cercando tutti di vivere pacificamente tranne alcuni tipo chi e quindi ti faccio vedere dove abbiamo piantato bandiera e poi decidi tu che cosa fare va bene allora certo certo allora pizza margherita pieno di cavalli pizza margherita tu che pizza vuoi fa? che pieno di cavalli? e vi sta il patetino aspetta devo vedere se ce l'hanno che sono quelli? oh buone ciao belli guardate che vi ho portato il pollo ma mi stanno sputando ma non è normale hanno il covid hanno il covid ma te lo passo guarda il covid freddy fosber fermi tutti non ci provare non ci provare zi ho freddy fosber in mano non fare orfo 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 ma è fortissima la bomba iniziamo bene scusate Leo Cristo ciao ciao ragazzi si orribio ma sei un creeper sono arrivato su pandorans quindi è canonico eh già comunque Leo finché mi attacchi il covid va bene basta che mi attacchi lol eh no lol l'olore è solo mio mi spazio ho trovato ho trovato la maledizione del lol player lo sai davvero anch'io ce l'ho guarda non posso toccare l'acqua guarda ma si chiama cross offender si è quella se io toco l'acqua prendo danno l'ho trovata l'ho trovata ce l'ho ce l'ho cross offender chiaro chiaro sono diamante 1 su league of legend ora ho totalmente senso questa cosa io ora sarei contento ok allora vediamo vedere come funziona sto arco con la corda mi sono curioso abbiamo un arco con la corda vai lancia ok mi sono perso qualcosa è una corda da scalare figata lol è arrivato in cima si può riprendere sedia non lo so ah no riprendi solo la freccia la freccia con la corda che ricarichi con le corde le puoi mettere dentro ragazzi mi sono perso qualcosa ma non so cosa che cos'è questa struttura ragazzi ah ragazzi avete fatto questa struttura per me è nuova mi ripassi la corda Leo ma ho un po' il nevo la sto ricaricando come la ricarico con la corda con la con la le metti nella crafting ci metti la corda dentro tutto a posto porca quando avete costruito sto coso sei caduto forte lo faccio io no no mi fa solo male un unghio e stai tremando da prima è un problema è un cazzo bello però vieni un attimo devo dirti una cosa in privato ma una farm infinita di corde questa Leo ma no perché dimmi sono innamorato no allora io ho bisogno innanzitutto di cibo perché sto veramente in uno stato allora cibo ti do un paio di questi eh sto stressato bisogna di mangiare eh ma tu ho visto che stai un pochino stressato stai calmo non ti preoccupare poi numero due qua arriva Just Eat? no Just Eat non arriva qui abbiamo perso tutta la civiltà quindi se vogliamo fare se vuoi aprire un Just Eat sicuramente è molto utile ma tipo Just Eat per dieci clienti non lo so e vabbè oh vabbè senti cosa più importante numero due se siamo in dieci tu sai che una delle prime cose che succede quando c'è poca gente allora parliamoci perché me lo vuoi dire in segreto? sfidati allora io lo so che mi sono appena scongelato e devo vedere tutto però da quello che mi avete detto siamo solo noi dieci o quanti siamo dentro a delle mura che non ho ancora visto tu sai che basterà tipo tre secondi affinché qualcuno imbraccerà tipo un fucile e prenderà il controllo di questa cosa vero? prima Fieric è arrivato da me e mi ha fatto esplodere tu sai quanto ci metterà Fieric a prendere il controllo di tutta questa zona? no io stavo pensando con chi fare l'amore per ripopolare non posso pensare non ci sono femmine non ci sono femmine e vabbè ma chi l'ha detto che non poteva essere anche no 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 però dobbiamo stare tranquillo vabbè comunque praticamente poi quando Goku sconfigge Bulma e gli spacca il naso secondo me non è stato molto eh no è comunque considerata violenza domestica eh secondo me sì poi vabbè poi soprattutto si era trasformata in Super Saiyan e non c'era bisogno per picchiare una ragazza la mia saga preferita di Dragon Ball è il Kamea Sutra bella ragazzi sto a posto? ciao tutto ok stavamo disquisendo di Dragon Ball ragazzi mi sono dimenticato come si siede come Peter Griffin che muscolo che muscolo ci si siede vedo che vedo che siamo tutti pronti a ecco ecco oh io avevo che cazzo è successo? che cazzo era? tutto bene? è caduta un incudine su sedia sì no che imont è che imont è io ho tirato una freccia ma se ce l'ho io mi sa ah è Z comunque per sedersi oh che bello penso che la freccia va solo in verticale quindi la usi per lanciare in alto e fare tipo l'impalcatura ok guardate come sono simpatico oh madonna anni anni di Fortnite ora sono ancora più simpatico come si fanno le emote? chi è quello? un alt buonasera chi è lei? un blazer che bella presentazione salve vi interessa comprare del vino rosso? no io posso trasformare l'acqua io no 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 così guarda ma scusate non siete minorenni? non possiamo usare la violenza e sottrargli no sedia sedia hai capito male siamo youtuber di solito le ragazze degli youtuber sono minorenni non gli youtuber ah ok scusate hai capito male scusate no non sono ancora nel giro per questo eh eh per le da poco se lo sbaglio un po' di vino pollo che sta tremando guardatelo poveretto oh 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 non c'è bisogno di picchiarlo non c'è bisogno di lava e quindi mi è venuto freddo ah va bene vuoi che ti scaldi un po' poldo tieni eh vedi no mi sa che ora ho ancora freddo fanno due esmeraldi due esmeraldi no no ragazzi un siciliano con la bomba guarda la bomba ragazzi quella non era una bomba l'acqua no l'acqua no l'acqua no l'acqua no l'acqua no l'acqua no ma chi è questa persona ma Emerald ha avvistato Salvatore Cugno al Games Week con un ordigno fatto in casa non fatelo entrare ragazzi quella non era una bomba amichevole però eh no no aspetta un attimo Jumpy Deck eccolo è arrivato non era morto Jumpy Deck no stava morendo su YouTube si è fatto il video sulla morte dove è testa di minchia ma che nomi avete dato ai vostri cavalli siete dei cafoni no che bei nomi come cazzo li avete presi c'è una lore c'è una lore sedia 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 apri la bocca aah che schifo mi hai sputato ma come fanno a sputare sedia posso parlarti piccolo regalo con la U in privato con la U con la U parliamo di Jumpy Deck se al posto degli sputi vorrete del vino fatemi sapere siamo ancora poveri ma appena la ditta dura farà soldi ne compreremo saremo ricchissimi prima o poi noi siamo gli imprenditori di Pandora ce l'ha l'etichetta il suo vino si vuoi vedere si fanno due smeraldi no solo per vedere no allora uno smeraldo per vedere ma no ma come funziona uno smeraldo e mezzo allora se me lo fai vedere io ti mostro per un secondo Freddy Fosber va bene lo so guardalo guardalo zoom con la C la bottiglia ce l'ho in mano no non la vedo questa etichetta però cioè non vedo il codice a barre vabbè ma sono due pixel figa dai fa il bravo va bene questo è Freddy Fosber esiste che cazzo l'hai preso come fa esiste è lui che è arrivato da me puoi farmi il suo verso vedi già devo non so neanche entrato e già devo forf 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 carino ragazzi sedia è razzista è vero è vero è vero è vero scusate raga scaldati come va sto meglio vabbè sto bellissimo allora io io odio chi gioca che cazzo dove sta arrivando questo suono scusate aiutati aiuto 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 ragazzi no 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 mi prego aiuto 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 non era così non era quella no ma tutto gioco aiuto sono scappato ragazzi comunque questa cosa è molto pericolosa c'è lo zombie occhio no adesso non è così pericolosa ragazzi riusciamo a mettere in in sicurezza questo posto è molto pericoloso no cristo cristo è fatto di legno ragazzi questa cosa è davvero pericolosa non è la norma l'ho spento l'ho spento grazie ragazzi davvero ragazzi gioco di mano gioco da villano vi rompo la faccia altro che ecco ora va meglio sei seriissimo una sedia no 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 sono razzista sono razzista va bene questo è il mood della dittatura sono totalmente razzista adesso bravo no 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 ma se sei razzista contro tutti sei ancora razzista no no stavo scherzando ragazzi era un prank sedia 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 ma se uno è razzista verso tutti è ancora razzista no è capito è Gerry allora posso essere razzista è vero è vero non hai preferenze va bene ragazzi oh vabbè pandora risolve il razzismo perfetto ragazzi racism is no fucking more. Perfetto. In tutto ciò, cosa costruiamo oggi, ragazzi? Una casa? Io vado al sistema la casa, perché andare avanti con la costruzione non abbiamo il vetro, non c'è sabbia. Questo lo ricostruendo, scusate. Dove sarebbe la casa? Un eco-mostro. Allora, io praticamente... Possiamo farlo di un altro materiale? Facciamo un muro, intanto. Eh, si potrebbe fare un muro. Ho una bellissima idea. Aspetta, aspetta. La mia casa, credo. Ah, ok, quindi tu hai scelto il punto della nostra casa. Hai visto cosa ti ho detto? È bastato mezzo secondo. Hai visto cosa è successo? Persone in fiamme. È vero, è vero, è vero. Persone che cadono. Bullismo. Allora, guarda. Io voglio il bullismo. Chi sei tu? Io sono Chris Sparpol. Ah, bella, Cristo. Ho questa skin perché sono un businessman. Voglio fare impresa io su questa serie. Eh, Cristo... Credo che Emerald ti ha spaccato la casa. No, no, non togliere quello che... No, 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 no! Mi ha rotto la casa del gaming. Eh, dobbiamo ricostruirla però adesso. Ma tosto qua... Wow! MLG Gamer, proprio. Scusa, ma cos'è che sei venuto a fare qua? Io... Io... No, io... Berrofronzo. Ci sta spiando. Fermi tutti, un attimo. Io sono un ispettore sanitario degli immobili. Ha detto che questa è una casa? No, è... Ha detto prima che è una casa. Testimone è me stesso. Me è medesimo. Ma questa casa è a norma? Sarà la casa. Lei stia zitto! Non ha neanche 14 anni! Allora, allora, allora. Allora, scusi. Aspetta un attimo. Mi... Ma... Quanti... Smeraldi servono? Perché io devo ancora... Facciamo cinque e adesso siamo alla pace. Va bene, va bene. Devo trovarli però... Va bene. Il mio conto. Guardi. Sono a sei adesso. Guardi. A tempo due ore. Come due ore? Fanculo, senti! Abbiamo già un debito! Scusa. Ora, bene. Non vedo più Cristo così che posso parlare. E va bene. Va bene. Perfetto. Ci provo, ci provo. Va bene. Perfetto. Va bene. Ok, grazie. Mi hai sbagliato tasto? Dovevo... Bro, ma ti ho ninja tantissimo. A posto. Te l'immagini nella vita reale? Vi è partito uno sputo. Ma è uno sputo potentissimo. Ma non c'era tipo nel documentario di quelli con la Tourette? Chiamatemi Joe Pesci. Bella, Joe. Va bene. Allora. Allora. Io vorrei costruire... Ok. Appena finisce. Bella, ragazzi. Vedi? Vedi, se di anni arriva un altro e ti spacca la casa. Mi ha spaccato. Dobbiamo fare delle mura. Dobbiamo farci delle mura. Dobbiamo proteggerci. Da queste persone. Ci sta. Ok, ragazzi. Ma dov'è Leonardo? Leonardo Bru mi sa che è già corrotto. Ma tu chi sei? Io sono Cristo Sparple. Oh, bella Cristo. Ciao, Poldo. Dobbiamo murarci. Dobbiamo fare delle case intorno... L'impero romano? Dobbiamo essere protetti. Vogliamo farle qua. Ragazzi, rifacciamo una sua pandora. World Gaming. World Gaming. Cosa proponi? Io propongo di... Intanto iniziare a costruire le case mentre siamo tranquilli. Appena le case sono pronte facciamo un bel giro di mura intorno a tutto quello che è nostro. E poi distruggiamo la casa di Lolo Lacustre. Ci sta. Io volevo vedere quell'ultimo film di Adam Sandler. Quale? Tipo diamanti grezzi. Sono neanche non c'era quello di me contro te. No, no. Volevo vedere l'altra sporca ultima meta. Ah, a posto. Allora... Vabbè, vediamo. Poi lo dicevamo. Ce lo vediamo. Ce lo vediamo. Bello. Ma poi capiamo. Costruiamo la tv su Minecraft. Mi piace. Sì, sì, sì. Per le nostre scene... Ce lo vogliamo su Pandora. Spera, una di quelle scene da Griffin in cui poi c'era lo stacco di noi con la Redstone che costruiamo un intero televisivo. Allora, comunque il problema è che io non ho nulla. Cioè, non ho ferro. Non ho altro. Se vuoi ti posso dare metà del mio niente. Cioè questo. Deo, allora... Questo. Dobbiamo assolutamente... E dai, ti do anche un po' di cibo perché faccio la carità. Ti ritornerò molta roba. Dobbiamo assolutamente... Cioè, lo 0,1% di interesse. Sedia, mi dicono che ma quella sporca ultima meta sarà uscita dieci anni fa. No, davvero? L'è uscito l'altro giorno. No, è uscito dieci anni fa. Sedia, sei stato in coma per nove anni. Ah. Però, però io sa... Sedia... È colpa del coma. Ma Adam Sandler è ancora il miglior attore che ci sta sulla faccia del pianeta? Sì, sì, sì. No, ora è lui e Sophie. È un'unica entità. Ok, ho il piccone. Da giornata, da pessima è diventato servibile. Io sono Chris Sparapol. Bella, Cristo! Ciao, Poldo! Allora, beccatevi una mela per te e una mela per te. Ora, ragazzi, dobbiamo assolutamente... Scusa, siamo Adamo ed Eva? Ma se facciamo delle piantagioni per delle patate, intanzitutto, tipo... O del grano, queste cose... Facciamo un mega... Come i pochi. E se voi ci facciamo una farm di maiali? Facciamo una farm di puttane, altro che... No, 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 no. È una battuta. Hai detto una parolaccia! Io devo cambiare. Ho capito, ragazzi. Ho detto... Non l'ho detta io, non l'ho detta io. Comunque... Grano. Grano! Cazzo, ho buttato dei semi, ne avevo tipo 15. Comunque, amici, la situazione di Pandora e delle altre season è un po' una situazione di... di prevalicazione. Si dice così? Non lo so. Non so se avete notato, ci sono molti partecipanti che tendono ad avere degli atteggiamenti violenti, degli atteggiamenti punitivi, degli atteggiamenti, insomma, nocivi contro gli altri. Proprio per questo voglio proporre a sedia e Cristo, poi non so se vuole aggiungersi qualcun altro a questo piano, di fare le nostre case e poi murarci da tutti gli altri. Così siamo quantomeno protetti. Certo, voi dite che certezza ne hai che... e quelli con cui ti muri poi non sono gli stessi rivoltosi di cui parli. Però, non lo so, momentaneamente è la prima cosa che mi è venuta in mente dopo l'ennesima violenza che ho subito entrando in questo server. Una cosa disdicevole. Ma quindi quello chi è? Oddio, sai che... Ah, quello che parla con sedia, boh? Ah, ragazzi, un attimino, scusa, ma te chi è che sei di preciso che non mi ricordo... Eh, io sono Cristo is purple. Come si scrive? C-I-R-S-T-O. Hai sbagliato. Hai scritto... Lo so, boh. C-I-R-S-T-O. Hai scritto C-I-R-S-T-O. Eh, infatti... Madonna, bro! Ma stai alla gag! Bella, Cristo, comunque. Hai scritto C-I-R-S-T-O. Ciao, Poldo! E da oggi... Poldo procede a effettuare una manovra a tenaglia, ma voi non lo saprete. Cioè, non lo sapete. Io realizzerò una testuggine, che era qualche cosa romana, tipo di guerra. Io sarò rivoltoso in questa Pandora. Sarò sul piede di guerra. Io farò scoppiare una guerra. Altro che... No, comunque... ho solo paura di finire bullizzato, quindi mi costruirò delle mura come metafora della violenza che si subisce quando si è alle scuole elementari, alle scuole medie e ci si costruisce un muro intorno metaforico in cui ci si nasconde nel proprio universo ignorando tutti gli altri. Ecco, io farò il contrario, manderò a fanculo il metaforico e per proteggermi dal bullismo costruirò insieme ai miei amici un'intera cinta di mura per proteggermi dalla violenza, per dire no al bullismo. La night vision comunque è per cheater, a me non è che piaccia più di tanto. Poldo, calmati. Poldo, non si deve calmare. Poldo, è appena partito. Comunque, mi hanno detto che ci sono un po' di persone che mi sa che hanno già esplorato tutto a quanto pare, ma ci sono tipo mob pericolosi oltre quelli classici, no? Vedo creeper, vedo... No, pare tutto a posto. Come è avuto il Freddy Fazbear? Hanno detto che l'hanno trovato nella mia cella, quindi probabilmente è un mio giocattolo. Non lo so di quando ero piccolo. Non lo so come funziona la lore. È mia, non l'ho pensata. Vabbè, sono stupido. Non me la ricordo, ecco. Non me la ricordo. Non deve far mancare l'angolino per piangere e per maturare odio e vendetta contro tutti. No, no, ma infatti poi faremo pure l'angolino del pianto, così quando ci bullizzeranno con le frecce sparate sulle mura noi ci mettiamo in un angolino e piangiamo. No, non è vero, noi prepareremo una minigun sul tetto, altro che... altro che... Lo so che questo è Minecraft, ma io adesso crafterò una pistola. Editor, metti una pistola che... non lo so, ci sono... Cazzo, un cannone di TNT però non è una brutta idea. Magoldo che fine ha fatto? Ok? Vi spiego per l'ultima volta questa cosa, ok ragazzi? Ve la spiego per l'ultima volta, visto che me lo state chiedendo molto insistentemente. Allora, Goldo apparteneva a un altro universo. Ogni Pandora è ambientata su un universo diverso, ok? Stessi personaggi, immaginate là, dagli stessi attori, però su tanti universi diversi. Ogni universo si riparte da capo. Pandora Season 1 c'era Carlos, non so quanti si ricorderanno di Carlos. In Pandora Season 2 avevamo Enzo. Pace all'anima di Enzo. In Pandora Season 3 abbiamo Goldo. E Goldo va lasciato dove è rimasto. Perché lui appartiene alla Pandora Season 3 e basta. Cioè, è quello il suo mondo momentaneamente. Cioè, sì, Pandora Season 3. E il Poldo Cinema... No, è semplicemente Pandora, non è il mio cinema... È il Pandora Cinematic Universe, effettivamente. il discorso... Il discorso... Il discorso nella sua interezza è che Goldo non appartiene a questa season, ragazzi. Mettetevi il cuore in pace e non insistete, per favore, che... Who the fuck are you? Sono il mostro della palude. I nuovi mostri! Esprimi un desiderio e ti... sarà avverato. Oddio, un desiderio? Sì, uno solo, per favore, che non ho tempo. E quanto tempo ho per pensarci? Eh, qualche decina di secondi. Dieci secondi? Ok, fammi il countdown. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, voglio una pistola! Oddio, una pistola? Aspetta, vedo che posso fare. Tieni, tieni, questa è la cosa più vicina che ho a una pistola. ma è un arco. Scusi, Ocean Man! Ocean Man! Pa, 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 pa. Bro, bro. Sì? Mani in alto. Hai una pistola? Ho un taser. Ma non lo so perché... Cazzo, non lo ci fai con un taser? Ma come si usa, buona sera lui sono il mostro del mare vengo per informarla se preferisce pagare in sei rate o un'unica rata le tasse dell'anno prossimo unica rata unica rata sono 15.000 la contatteremo via mail buona serata maledizione via mail sempre bro come è andata l'hai preso il tuo taser come no dove dove è andato il mostro del mare no ma in realtà non mi ha offerto un'arma da fuoco mi ha mi ha chiesto come volevo pagare le tasse dell'anno prossimo ma lo so ma il suo è dato che cosa che diamine è questo mi hanno tolto il taser ma lo senti anche tu questo coso certo che fa no 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 io quello c'ho paura di quello freddy jumpscare senti io vediamo in miniera insieme sì allora io stavo cercando effettivamente del ferro non ho trovato nemmeno uno trovato solo carbone possiamo tradarlo il carbone con qualcuno aspetta smutati su disco così non mi fa male il dito dito smutato no 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 che è successo no c'è tuo freddy fuzzber comunque e dobbiamo andare in fondo scaviamo troviamo un ferro fanculo era mio ma non sono arrivato proprio io però c'è del carbone qua che è completamente evacuato ragazzi questo è il tipico horror di freddy fuzzber madonna troppo carbone che non ho cambiato ma perché tu non ti sei portato le torce facciamo un piano allora io ho appena parlato con la mia chat e li ho proprio dimostrato sono qua li ho proprio fatto vedere come non appena entrato nel server cosa è successo mi hanno bombardato mi hanno dato fuoco mi hanno questa è una dichiarazione di guerra no no e sono sono hai visto sono venuto da te e tu mi hai fatto vedere la tua bellissima casa da gaming cosa è successo è arrivato qualcuno che non mi ricordo chi era berrofronzo forse era emers e ti ha e ti ha distrutto ti ha cancellato ti ha anni hai late la casa ma scusami è un comportamento non è un comportamento normale in pandora non è un comportamento normale tra amici no e comunque si è un comportamento normale per pandora proprio per questo io voglio dire basta io voglio ribellarmi a questo sistema a questo sistema in cui sono tutti cattivi tra di loro in cui in cui si odiano tutti in cui commettono violenza e siccome voglio risolvere la violenza ho deciso di scapparne quindi ah quindi non vuoi fare violenza e poi come ci proteggiamo e no alla violenza dovremmo fare violenza l'unico modo per proteggersi è come dicevo fare il il muro facciamo la miglior difesa costruiamo le case nostre mia tu è di cristo poi cristo non so se vuole fare una casa o altro e una chiesa ok ok e tutto quello che vuoi tu c'è una stessa ti ho ti ho un po perso vieni qua andiamo a vedere qui qui vieni vieni scendiamo qua e quindi ci creiamo una bella zona in cui ci facciamo tutti i nostri negozi però devi stare un po attenzione che qua è alto il posto eh sì sì tranquillo guarda tanto c'è l'acqua ah no però noi dobbiamo andare la e ci possiamo andare ma scusa quel pillar sì secondo me sì facciamo così guarda vieni schifito dicevo poldo ti è quel culone di sedia che non si sente la sua la tua voce ecco eccomi eccomi ora si sente la voce di poldo scusatemi perfetto chat di sedia stavo dicendo c'è troppo bullismo su pandora guarda un altro violento vattene a fanculo è tutta una situazione situazione piuttosto brutta ecco scusate tutte le casette la costruiamo tutti i negozietti dentro delle mura così nessuno può venirci a rompere le palle a meno che non lo facciamo entrare noi ma per quello io io posso dire una visita verde posso dirti una cosa però non la devi dire agli altri sì io vorrei aprire una panetteria oddio e non l'hai detto agli altri per paura di essere giudicato eh sì perché poi tutti quanti magari mi tiravano una bomba me la distruggevano io voglio solo la mia panetteria dove vendere il mio pane io odio il bullo mi piace indovinare chi è stato berrofronzo maledetto berrofronzo è un bastardo quello no berrofronzo c'è già stato qua e vabbè magari c'è qualcos'altro eh no ma già qua è stato qui c'è qualcosa è un sprunger sito freddy fasberg no è stato già acquisito eh però le casse si possono mi sa sono per tutti rubo rubo le casse le caspede ce n'è un'altra qui e ha un music disc vabbè non mi interessa però c'ha golden apples ok questa non mi piace quindi io ti direi adesso noi costruiamoci la nostra casetta così far facendo finta di niente ignorando tutti va bene appena la casetta sarà finita ci chiudiamo mi piace prima possibile voglio tutti nel laboratorio no dobbiamo andare bro dobbiamo andare è importante e franconi o bisogna ascoltarlo andiamo fra chi l'ha detto è sì 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 il copione come si torna indietro però era di là era di là dovremmo avere tutti la bus la bus la bus la sede si sente un polaretto non si sente pollo a perché un polaretto lui certo ovvio allora saliamo qua non sono un polaretto la brusola ragazzi la brus ma chi è il tizio che parlava con te prima perché mi hai chiamato perché hai parlato due volte ho sbagliato arriviamo andiamo al laboratorio 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 il laboratorio il laboratorio il laboratorio scheletro c'è uno creeper gaming o è di qua è di qua l'uscita è di qua è l'eco è perché ci parliamo da due posti diversi sì 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 esatto dicevo ma chi era quel tizio che parlava con te prima e cristo is purple grande sono quelle le mura quello è un cazzo di fra 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 è il lama di mine di fortnite è una lontra quella bro bro dobbiamo andare da franconio dobbiamo andare da franconio dobbiamo andare da franconio bro mannaggia a te non la teserare non la teserare no non ce l'ho il taser mio dio siete bellissime voglio vivere qua questi non per chi hanno tolto il taser aspetta aspetta no fra no 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 lo sai che mi fa paura santo dio scusa andiamo dobbiamo essere ligi al dovere per favore ok stanno scendendo tutti freddy falber ho uscito freddy falber tra l'altro lì c'era del ferro lo so non lo prendiamo fra frate ma fa un culo ma tanto aspetteranno noi i soliti bulli sono dei bulli lo so lo so però c'è franconio mi piace è un bel tizio è un bel tipo è vero è un tipo cilio tra l'altro sì no ma in realtà tutto a posto con lui mi è sembrato tranquillo lui è forse uno forse lui è uno di quelli come noi attenzione attenzione c'è i gamers aha l'ho ucciso pezzo di merda allora andiamo a fare il game no bro 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 andiamo ci stanno richiamando no cazzo no ci hanno tirato le orecchie ma tu sai dove è il laboratorio non mi ricordo ma io non è dentro il gamers arriviamo 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 dove è di là io vado eh si 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 qua vado qua vado più veloce più veloce più veloce più veloce furia cavallo del west no come hai fatto perché l'hai preso hai rubato l'infra non rubare i cavalli si rubano i cavalli dove devo 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 è verso il centro verso la pozza di lava la pozza di lava siete stati rimproverati su pandora siamo stati alla pozza di lava ci sono ci sono ci sei è quel buco da dove siamo usciti quello di ti prego mi saluti mi saluti in un video in un commento mi saluti mi muto frate mi muto frate voi sapete dove è il laboratorio si è di qua è di qua seguitemi 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 però stai andando in tondo che cazzo ti seguo tearless raptor allora tu tu guarda la sedia a due gambe fai poco lo sgargiulo eh allora io mi ricordavo che è qui non te lo ricordi non se lo ricordo coglionazzo no me lo ricordo ve lo giuro è di qua non puoi questo qua si definisce anche un vero gamer è qui è qui è qui è qui lo so io me lo ricordo siamo passati di qua noi ma come si è appena arrivato ma si è appena arrivato come cazzo vai appunto ho la memoria fresca giustamente era tipo qua la sedia vabbè sedia si arrangerà non c'è niente qui di qua di qua seguitemi seguitemi stiamo già seguendo da un po' e non abbiamo trovato il posto e lo so però io sento l'odore l'ho cercato ma sei una cazzo di sedia non puoi annusare questo lo dici tu ok scusa era di qua è questo bobo d'acqua lo so lo so lo so mi sa che era di qua tipo ma non è il caso di che scrive a qualcuno che ci vengono a prendere ma io forse me lo ricordo e dico forse e non mi ricordo quella casa di vetro ah hanno detto che è alla casa di vetro ah ok andiamo alla casa di vetro c'è un buco con un blocco con l'acqua si 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 è vero è vero è vero vai tu a prendere Tearless Raptor The Gaming no me ne frego ok perfetto mi metto qua così lo aspetto si si così sono loro gli ultimi che arrivano Minecraft 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 Da dove arrivi? potete chiamarlo Bisolo oppure Birillo ma meglio Birillo Ma è Maggiorenne? Ma sta tremando È Maggiorenne? È stato scongelato Ma eravate in tantissimi Ma come è stato scongelato? Ma è Maggiorenne? Pirillo, sei Maggiorenne? Quanti anni sono stato lì dentro? Non ha importanza Perché Il tempo non scorre Scusi, scusi, una domanda, scusi Ho una domanda Sentiamo la domanda Ma perché se il suo assistente l'ha congelato? Perché ho altri assistenti che devono sopravvivere come voi E quindi devono seguire il vostro stesso procedimento Spero che sia tutto È arrivato un pelato Cazzo sei arrivato, Eren? Grazie per le indicazioni Scusate Cioè Minecraft Benvenuto, benvenuto Non trovavo il laboratorio Va bene, va bene Spero che siamo tutti Nessun problema è in ritardo Ora sì, ora sì Dovete sapere che io, Elvio e Pirillo Siamo degli inventori Siamo degli scienziati Siamo degli uomini di grande sapere E abbiamo creato un nuovo oggetto Che cambierà la vita di tutti voi Un applauso Clap Ande grande, complimenti Cudo Oh, che bec Oh, che bec Oh, oh Oh, oh Molto bene Adesso Mi mostro l'oggetto che abbiamo appena inventato Il suo nome è Cisle Tutto sto casino Tutto sto casino Per un pezzo di ferro Mantenete la calma Capisco il vostro stupore Adesso vi spiego Cosa può fare Questo oggetto per voi Per migliorare La vostra vita di me Prof, sono appena arrivato Ecco, bene Mettiti a sedere Perché si è già lasciato Pandora Non ci sono problemi Non si vede Non vedo niente Grazie Non cacciavite Ma come le tende sono aberte Ma non del tutto Non del tutto Vabbè, se è quello centrale Basta, si vede quello centrale Ma quello importante è quello Vabbè, deve essere un problema di scenografia Sì Ma te calmi Guardate Come gira Eeeh Io ce lo scusavo No Ma incredibile Ma incredibile Ma proprio Ma cosa serve Cisle Oppure la notazione è incredibile Cisle Cisle Balsamo Adesso vi spiego Cosa serve il Cisle Se voi equipaggiate il Cisle E premete il vostro Destro Ok Il vostro Potete selezionare Un oggetto Il testicolo E puoi cambiare la sua La sua forma Spostati Lo vedo Ad esempio Se prendiamo del pietrisco E lo utilizziamo Con il Cisle Può diventare Qualsiasi altro tipo di pietra Facciamo un test dottore Eh Lo testi Lo testi Ragazzi Non abbiamo fatto niente Perfetto Ascoltate Si fa dall'inventario Non si fa Ok Ok Sono Sono Cisle FG Cisle Che c'è la Cisle FG Allora Voglio un volontario Io 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 Giù Ma lui Eccolo qua È il nostro volontario Vieni Vieni qua FUGATTI Fermo Allora Adesso ti faccio Questo oggetto Tieni Ok Ora il Cisle Premi il coso destro Il diesel E ora metti un oggetto E cambia la sua forma Eh Eh Io Non vedo più piatto Distrazione No Possiamo prendere Un intelligente Scegliere un oggetto Che abbia più In maledizione Fate salire qualcuno Di più di più di gente Posso provare io Posso provare io Siamo qua Sono tutti violenti Sono tutti violenti Bene Ora torna in mezzo I tuoi amici Che ti vogliono Tanto bene Vieni qua Vabbè Siete Troppo simili Fermo lì Tieni Prendi questo Ora prendi questo E cambia la sua figura Cambia la sua apparenza Fatto Viva la tecnologia Viva Jampitec Complimenti Complimenti a tutti Complimenti Una domanda Una domanda Una domanda Fica pesosa No! Zitto! La scienza ha vinto anche oggi! Ho una domanda! Vincere! Ma che schifo! Chi ha dato di volo? Ma funziona anche con il legno! Grazie Perro Bonzo per aver fatto la dimostrazione! Diete! Io sono anche con lei! Non era Perro Bonzo! Non era Perro Bonzo! Come cavolo mi hai chiamato! Ho una domanda! Siete tutti Perro Bonzo! Ho una domanda! Perro Bonzo! Il dottor Giancolini ha la domanda! Ho una domanda! E da 1 a 10 quanto impatterà con la lotta contro il male questo oggetto? Farà una grandissima differenza! Perchè quando il male vedrà che le mura sono fatte di pietra! E poi noi grazie al Cisle! Uha! Cambieremo la skin! E diventerà di un altro tipo di pietra! Il male sarà così confuso che non capirà più niente! E noi faremo! Complimenti! 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 Complimenti vivi! Mi vuoi fare lo Spelly? Bellissimo! Lo Spelly è! Sì! Bravo! Uuuu! 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 Bellissimo! È una sola lettera! Ho una domanda dottore! Domanda! Vai! Dimmi tutto! Quanto sta accusando la sua gola di tutte queste urla? La mia gola non è affare tuo! No! No! Dottor Giorcolini l'aiuto io! Ma che violenza! Ma che violenza! Ma che violenza! Ma è un po' nel privato ragazzi! Un po' nel privato! C'è nel senso un po' di private! Allora! Un bel bichino! Allora! Ci sono altre domande? Sì! 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 Posso avere un campione gratuito? Oh mio Dio! Ma che figata questo blocco! Chi l'ha fatto? Come l'avete fatto? Devi uccidere Berro Poso! E prenderlo dal suo cadavere! Con legno! Con legno! Non farei mai! Wow! Scusi eh! Non farei mai del male a Berro Poso! Con questo dimostra sempre! Ah! Ho ancora un altro annuncio! Ascoltatevi! Sì! Dobbiamo uccidere Berro? Sì! No! Ragazzi! No! Ascoltate! Da questo momento è necessario che ci sia un leader su questa terra! Ok! Perché siete troppo indisciplinati! Ho assistito a situazioni veramente inaccettabili! Che passavano dagli sputi agli schiaffi agente che esplodeva! Nessuno mai sputato in questa serie! Io! No! Adesso ascoltatemi bene! Io sono il vostro nuovo capovillaggio! E questa è la mia nuova legge! Ma questa è dittatura! Questa è dittatura! È dittatura! È dittatura! Pura! È dittatura! È dittatura! È nostra! È nostra! È nostra! Io ero d'accordo! Io ero d'accordo! Io sono d'accordo! Io sono d'accordo! Puoi tirarmi su! Puoi tirarmi su! Che non è d'accordo! Può rimanere a terra! Eh Gianco! Eh ma non è che si possono alzare eh! Aspetta un attimo! Un attimo che qua stiamo alzando la gente! Un secondo! Gianco ha detto che non è d'accordo! Questa è la marcia su Roma più violenta che io abbia mai visto! Quante ne hai viste? Quante ne hai viste? E soprattutto non siamo a Roma! Allora! Una cosa! Professore! Professore! Io non posso accettare di avere un leader se questo leader non mi ha convinto con un discorso! Voglio un discorso degno di un leader! Il leader l'ha ucciso! Giusto! Per gli italiani! Se lei giustamente vuole essere leader deve convincere il suo popolo che lei è leader! Io non è che voglio! Io devo essere il vostro leader è diverso! Io voto Pirolino! Ci convinca! Faccio un discorso! Bene bene! Allora silenzio! Faccio il silenzio! Sono convinto! Viva il loro leader! La prima cosa che vi dico è che quando mi disobbedirete io vi ucciderò! Vi stenderò terra! Mi ha convinto! E vi schianterò come delle formiche! Per me va bene! Ma non ho intenzione di farlo! Quindi se voi vi comportate bene io sarò il leader migliore che voi avrete mai avuto! Bravo! Bravo leader! Fantastico! Complimenti! Inoltre come ogni bravo leader so fare un backflip! Wow! Ma so fare anche il front? Frontflip? In frontflip solo i grandissimi leader lo sanno fare! Pazzesco! Ovvero leader! Oh no! Leder, leader non hai una domanda! Wow! Wow! È pazzesco! È ovviamente una palla di giro! Leder, avrei una domanda leader! Sedia! Quando ero giovane mi chiamavano... Sonic D'Rionio! To me! To me! To me! To me! To me! To me! Ok, allora! Allora, ci sono altre domande Saranno con chiesti i rave? Che transizione strana I rave forse sì Staremo a vedere quanto rubore farete Perché più rubore farete E più le forze del male Avranno paura Tanto casino quindi Esatto, ma solo in momenti Perfetto E allora inizio io Ho una domanda, una domanda Si può creare una contea? Lo siamo già Una voglio creare un'altra Una doppia contea Una indipendente dal controllo Del nuovo autoproclamato leader Io non sono proprio d'accordo Ascoltatemi bene Ho appena ideato un nuovo annuncio Come nuovo leader di questo luogo Allora È incredibile È un'idea come se fossi proprio un cannone Po 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 Mamma mia Allora mercoledì Ascoltatemi bene Sarete messi alla prova Poi vi farò fare una sfida a coppie Perché così testeremo la vostra capacità di collaborare Cos'è il nostro rumore? Verro è svenuto Ma io mercoledì ho l'impegno Cosa è quello che sono l'ha faiuto? È vero Ma dove 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 dove? Oddio Ragazzi ma che cazzo è l'ho L'ho assurdo Oddio 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 E' anche vero che siamo riusciti a sconfiggerlo proprio adesso che abbiamo il cisello, cioè non è casuale secondo me. Esatto, e soprattutto voglio che voi vi rendiate conto di una cosa fondamentale. Perché siete riusciti a sconfiggere quel nemico? Perché l'avete collaborato! Ehi, le scopo! Adesso sapete che collaborare è fondamentale contro le forze del male. Perché come ci insegna lei che l'amicizia vince su tutto! Scusi, viva l'amicizia! Viva! Viva gli amici! Abbasso sedia! No, lei! Non abbasso sedia! Ho una domanda! Posso fare la domanda? Sì! Era quella la domanda! Troppo tardi! Me la son dimenticata! Ah no, volevo dire, signor Quasimodo, ma non è che lei, visto che è un grandissimo inventore, ci tira fuori magari anche delle armi più potenti per combattere il male? Servirà del tempo! Tipo una pistola! E un altro annuncio che devo fare! La prossima volta che la mia persona verrà sminuita sarete stesi a terra! Sedi ha detto che ha un citrullo! Senti, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero! Non è vero, non è vero, non è vero! Non è vero, non è vero! L'ho seguito anch'io, l'ho seguito anch'io! Anch'io, anch'io! Anch'io, anch'io! Non è vero, non è vero! È veramente brutto! È quel milenio, quel milenio! È quel milenio, è quel milenio! Quasimodo! È questo qua che stasera deve scappare! È copevole! Sarà uno dei leader migliori che voi abbiate mai avuto! Ricordatevi, mercoledì ci sarà la sfida con le coppie! Sarà messa a dura prova ma coppie sessuali L'unica cosa che non mi fa credere lei è il fatto che è pelato Un'altra domanda La sua skin care routine per la pelata non sa mi interessa come Che se ne occupa Ok chiederò Elvio grazie scusate Una domanda ma visto che adesso lei è il capobranco De Paguri ma avrà dei subordinati anche Oh ci sono Elvio e Birillo che mi aiuterà Vabbè qualcuno di più competente Non c'è nessuno di più competente di Birillo e di Elvio E questo qui però l'ha diminuita E' un po' di questo Oh voi dovete ancora imparare molto Avanti la prossima domanda Non era un caso Non si dicono queste cose Stavamo dicendo Pensavo che la volevo fare come domanda Non abbiamo la possibilità di saperlo Dobbiamo affrontarne altre Se si può fare sesso? Anche questa è una domanda molto interessante Ma non siamo ancora in grado di saperlo Io ho la creatura di prima Con lei si può fare sesso Molto bene Elvio segna tutto Abbiamo un tester per farlo accoppiare con quella creatura E vai cazzo Sono a terra Ho una domanda importante E' il prossimo Dimmi tutto E' mercoledì Le coppie saranno casuali o Sarà una sorpresa incredibile Perfetto Ho un'altra domanda Avanti con la domanda Posso prendere questa Ha siumato Cringe Ha siumato? Ma come no? No ci servirà per le prossime dimostrazioni Ho messo il siumino E non ne ha delle altre Comprano un'altra? No Le hanno rubate le forze del male Oh oh È un'altra forza del male? C'è la forza del male? No scusate che ho un mal di pago E' chiuso che è rutta semplicemente Ma lui è Pirolino Ma è strano incredibile È sparito Ci sono altri Ho sentito Pirolino Avanti Ma sta piovendo Perché ormai mi sembra che le domande siano piuttosto triviali Esatto Andate pure ragazzi Andate a giocare Grazie signor dottore Ma la messa è finita Andate in Pirolino Guarda questo yuppie Mi struttura l'orecchio Tiar ma quindi non ho capito Lui è il nuovo Paolo Villaggio No è il vecchio Paolo Villaggio Ma di questo nuovo villaggio Ah ok Quindi è Paolo Città praticamente Ciao Poldo Ciao Poldo Ciao ragazzi Di autografi dopo Fino del minuto da poco A dopo No ragazzi Io spero che ti voglia tutto quello che è più caro Fanno più pacato la Games Week Io sono aggressivissimo Mamma mia è certo che questo Luca Comis è veramente tremendo Eh tra la pioggia e l'altro C'ho le ginocchia annacquate Ma che è che fa yuppie che deve morire Ma infatti che è che sta soundboard Che deve morire Ma che violenza Sono aggressivo Abbiamo appena detto che non dobbiamo essere aggressivi tra di noi È il mio cucciolotto Lui è Rabbias Comunque non è una soundboard È il mio cucciolotto Guardalo Ma io spero che quel sans di merda muoia Ma se finisce sotto la macchina Io spero veramente che venga schiacciato Non sono io lontani Non mi fai paura con quella pistola di merda Ma tu chi sei? Ah io sono Chris Sparple Ah bella è Cristo Oh hanno alzato una bomba Violento cafone di merda Ma cosa dici? Hai lanciato una bomba T'ho visto Ma sei tu una bomba Dai Non fai che sei una bomba Ti sputtiamo il veleno Mandante si chiama adesso Io torno alla casa Ancora sì ma sarò sempre Per sempre sì Ma perché mi picchiano tutti? Ci sei il GV Leo? Inzettare? Sì sì Porto la settimana al GV Oh finalmente Let's go Il meet and greet Migliore di sempre Cosa stai facendo qua? Scusa Sto sennando il cesso Un attimo Scusa Scusa Mi dispiace Che è successo? Qualcosa hai fatto da Emerald? No no sta pisciando Lascialo stare Cosa vuol dire Emerald sta pisciando? Sto sta pisciando Irl Lascialo là Struscio per te No 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 Leo fermo Ti faccio vedere un bell'asino Regi Guarda che bello Che è il mio asino Nooo Bellissimo Stupido che si porta Minecraft al bagno No l'acqua no L'acqua no L'acqua no L'acqua no L'acqua no L'acqua no Ma hai visto la testa? Ma hai visto com'è la sua testa? Togliete l'acqua Ma io la vedo normale Togliete l'acqua Io vado alla casa a base Allora quindi mercoledì Ci sarà una sfida a coppie Interessante È vero che Leo è repellente all'acqua Ci sarà una sfida a coppia Molto interessante Io adesso farò questo E lo ripianterò subito dopo Tanto non mi sta vedendo nessuno Quindi se lo faccio E lo ripianto subito Non lo sto rubando Lo sto sostituendo E se lo sostituisco Con una cosa identica E non danneggio la piantagione Tecnicamente va bene così no? Dovrebbe andare bene Tre panini ho fatto Cioè inutile Comunque dicevo Volevo fare questo Si è portato il pc fisso al cesso L'ha proprio alzato E se l'è portato al cesso No comunque Adesso obiettivo di oggi Credo fosse semplicemente Introdurmi al server E mi faccio un attimo Un po' di cibo Devo solo ricordarmi Dove cazzo era Casa di sedia E sai che mi sa che Era proprio quella Da dove ho preso Sedia gaming intenso Perfetto Era questa qua Ora facciamo una bella fornace Non ho la Cobblestone Lui ha portato il bar Perfetto Con tutta la schiavania Bravissimo Sta laggando un po' il server O sbaglio? Va bene Dicevo che Adesso Penso che Ci faremo una bella casetta Ci faremo una bella 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 casetta Dopodiché Penso che per oggi Ci mettiamo a cercare Un altro po' di ferro E poi Poi sì Ci vediamo mercoledì Porco due Che schifo che fai Ma sedia The gaming Eh purtroppo È inciampato E mo sta al pronto soccorso E c'ha poverino La caviglia slogata Sì ma sei serio Eh purtroppo Ma non hai visto quanto Bro Hai Emerald Che ti fissa dietro un albero Non è vero Mi stai dicendo Si vede Ho visto la testa Apparire Non vedo nulla Dai l'hai visto L'hai visto adesso Non ho visto niente Guarda c'è un cazzo di serpente Falve Non compro niente Non compro niente Falve un ferpente Desidero Desidero che Poldo Muoia Ma tu chi sei? Io sono Cristo Sparbo Bella Cristo Ti incanto Fermo Hai visto la nostra Piantagione? Molto bella Molto bella Ragazzi Me lo portate Via Me lo portate Via Per favore Perché Lo stai Desidero Che vai a dire Gianco Sei un citrullo Puoi smettere Poldo? Falve Falunferpente No Non sei più Un serpente È un verme Comunque Era palesemente Un verme Ma Non ho capito Dove ho andato sedia Sta al pronto soccorso Ma non è vero Non sei al pronto soccorso Sedi al sud Non sei al pronto soccorso Dopo devo dirti Una cosa importante Oh no Un ferpente Maffico Ciao A chi devi dire Una cosa importante? A te Leo Ok dimmi Intanto andiamo ad ammazzare Quelle mucche Che sto morendo di fame Va bene Vuoi delle patate? Tieni qua Oh grazie Oh grazie È un patato Veramente Dicevo Non so se hai notato Dal discorso Che ha fatto oggi Mister Franchino E Franconio Criminale Sì Cos'è quella torre Lassopra? È un palazzo Pieno di cesto Puoi andare a prenderle Ah perfetto E anche dal discorso Che ha fatto Franconio Ma da quando sono entrato Nel server Io sono stato Buttato in una pozza di lava Sono stato Bombardato Con due bombe Mi hanno dato fuoco E mi hanno buttato In un burrone Cioè qua La violenza È padrona Di questo mondo E siccome siamo La giornata della violenza Sulle donne Ma è su polvo Stavolta Esatto Esatto E siccome siamo In una decina Poi oggi mi siamo sembrati Anche di più una ventina Tu sai quanto ci metterà Qualcuno A imbracciare una spada Uccidere Franconio E prendere Tutta la La dominanza Di questa cosa? Sei giorni Quattro ore? Beh Secondo me È una settimana Una settimanella Devo farlo io? Mi stai dicendo Che devo uccidere Il presidente? No 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 Sei giorni Sei giorni sono buoni Ok ok E quindi? Devo ammazzarlo? No Il concetto è Non devi uccidere Non devi ucciderlo La violenza è sbagliata Leo vieni qua Hai attirato la mia attenzione Perché ho fatto il musicale Sta arrivando emerald Mannaggia Devo dirtelo dopo Sappi che è importante Andiamo al castello Andiamo a nascondiamoci da emerald Ok Ragazzi ma mi stai nascondendo da me Per quale motivo? Scusate Non ci stiamo nascondendo da emerald Bro è che i tuoi video ci piacciono Un sacco Quindi Sì Il problema è che porti minecraft Chi cazzo lo guarda minecraft? Dai porca puttana Cioè Ecco il mio problema Allora Io non porto più minecraft Io Benvenuti Nella mia serie hardcore Dall'episodio 5000 Me la fai la intro Fammi la intro Dai Fai la intro Ciao ragazzi Benvenuti Giurma Da emerald Facci l'intro Dai Facci l'intro Visto non sei un vero fan Sei un vero fan Dicevi Alla giurma Benvenuti in questo Visto Viro di minecraft Oggi Andiamo a fare Oh mio dio L'ho detto L'ho detto Oh colero C'è toffra di Fazbear Vai Vai e non tornare mai più Poi Dì a Zanko è un citrullo Facci sapere cosa dire poi È il mio desiderio, il del serpente Il serpente Prima c'era un serpente che ha detto che i miei desideri si esaudiranno Io ho detto voglio che dica a Zanko che è un citrullo Ma tutto bene Leo Sì sì, è la droga Ah appunto Dai andiamo a vedere Dai andiamo a usculare Leo ma le mura sono incredibili No ti stavo dicendo Siccome c'è una violenza incredibile Siccome c'è una violenza Oddio un uccellino giallo Siccome c'è una violenza incredibile In questo server Ecco appunto Volevo proporti E se costruissimo Io tu sedia e Cristo La casa tutti vicino E poi ci chiudessimo con delle mura Per proteggerci Avvicendano i quattro Ed evitare che succeda Qualcosa dispiacevole Ma io ho la dittatura Dovrei licenziarmi Tu hai la dittatura Devo Già come farò? Devo avere due lavori? Eh se vuoi puoi far avanti e indietro Dipende Tu volevi vivere in dittatura? Un po' Un po' dove si vuole in realtà Non ho preferenze Ma per me si può fare anche il villaggio dell'amicizia La mia proposta è qua No non è un villaggio dell'amicizia bro È il villaggio della protezione Tu con noi non verrai mai più bullizzato Verrai solamente amato Ti daremo solamente bacini Amore e attenzioni Altro che Pugni Bombe E cose del genere Basta Eh eh Come proposta non è male Forse posso fare part time uno e part time l'altro Eh quando è richiesta la tua presenza magari Ma questo villaggio dove volevate farlo? Eh dove sta facendo casa sedia Costruiamo Cristo vuole costruire una chiesa a quanto pare C'è la chiesa del Mac La chiesa del MacDonald? No la chiesa del Mac Del trapezio Cioè? Eh c'è la chiesa di Mollu Del Mac Del trapezio Non entra No Eh non c'era il primo episodio Mi sono perso tutto Ok dopo ti porto la chiesa del Mac Ti faccio vedere Quindi saranno Saranno rivali? Eh secondo me In qualche modo sì Stai prendendo il loot? Il juicy loot? Sì sì sto prendendo tutto il juicy loot possibile Ok vieni su con me Di qua Dove aver preso tutto Aspetta Di qua l'hai preso? No No questo non l'ho preso Sui sui loot Dio ma aspetta mi prendo questa Ok vedi di qua Dovremmo esserci Alte ceste Ho droppato qualcosa Una qui col cibo Oh cibo Cibo Godo Godo Ma sai che No non è canonico bro Non lo posso fare È in un altro universo però Non sarebbe lo stesso Appunto poi non sarebbe canonico Ehi vieni di qua Ehi Poldo Sì sì dimmi 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 Poldo non conosce Mac Eh ragazzi non c'era il primo episodio Chi è sto Mac? Ma adesso ti porto ti porto ti faccio vedere Molto contento di come sta l'andogang del pesce Zitto Zitto che c'è Cristo Zitto Zitto Silenzio Non dobbiamo dirgli che c'è Chiamo di evitarlo Eh ma se poi scopre Aspetta ma chi è Cristo? Vabbè va eh Dai quello lì Quello con la skin viola Che fa le robe su Discord Che crede di essere simpatico Ah Cristo Certo certo Sì sì è quello lì Cioè Che dice sempre Ti piacciono gli uomini Eh Un po' A te? Abbastanza Dove andiamo adesso? Eh non Ma visto Che c'è? Ciao Cristo Come stai? Ciao Ciao Cosa fai qua in giro? Niente stavo Volevo andare in miniera Ma il server non me lo permette Perché rompe un blocco E si rompe dopo 5 secondi Perché stai piangendo? Niente Boh Strano forte Eh lo so Io sono un po' Un ragazzo particolare Un po' fuori di testa Diverso da loro Hai visto sedia? Sì Lo stanno trasformando in umano Eh perché stavamo Come stanno trasformando in umano? Sì Ha avuto E che cazzo ne so Se volete vi aiuto a cercarlo Però Sarà al laboratorio? Vai tu con Cristo Io devo fare una cosa No dai Vedi te con Cristo Non No Non c'è voglia Ma dai Vedi te con Ma poi aspetta Chi sei che è? Cristo puoi dirci dov'è? Io sono Cristo Sparpol Ah beh Puoi dirci dov'è? Ciao E non vieni con noi Come? Cioè ci dici la direzione Io torno alla casa 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 In che senso Stanno trasformando sedia In un umano? Stanno trasformando sedia Nel creatore? Davvero? What the fuck Is it o Fred? Basta la smetto E mo dov'è? No Questa cosa è immensa Vabbè Lo scopri Vai a salvarlo No ma è una cosa buona Penso Penso sia una cosa buona Penso sia Una cosa Giusta Mi stanno Videochiamando Su Discord Mi What? Aspetta Pronto Porca puttana Bro? Sei tu? Eri tu? Goldo? Ciao bro Ciao Ma come stai? Ma da quanto tempo Che non No non mi mandare a fanculo Perché mi stai mandando a fanculo Brother? Tutto a posto Cazzo Vabbè Scusa Vabbè Sei incazzato Sei incazzato Sei incazzato Lo so Lo so che sei incazzato È colpa mia È colpa mia È colpa mia Lo so Lo so che tutti ti volevano Lo so che tutti quanti hanno detto Che Goldo doveva esserci Che tutti aspettavano Goldo Bro Allora Cosa? Ripeti? Nel laboratorio Piano di sopra Sto arrivando Sto arrivando bro Arrivo Nel laboratorio Piano di sopra Non so cosa voglia dire Non so minimamente Cosa voglia dire Mi è crashato Minecraft Spero di no Mi è tipo Ho crashato Minecraft Minecraft? Bro È successa una cosa Ma che cazzo sei tu? Fra Allora È successa una cosa Che è successo? È successa una cosa E Te la dovevo dire Praticamente Mi hanno fatto tipo Un esperimento strano E io mi sono Trasformato Però io non voglio Giocare a Minecraft Cioè Minecraft È un gioco per bambini E sedia ci stava giocando Io non c'entro niente Sei il creatore Sono io Bella Bella niente A me è successa Una cosa importantissima Giuro che torno Fra cinque minuti Aspettami qua E arrivo Ti aspetto E mi parli di tutto E mi parli di tutto Certo Cazzo 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 Quindi è canonico È canonico Perfetto Mi sente È molto felice anche lui Allora Quanto ci metti a schiuderti? Uno? Due giorni? Due giorni Perfetto E allora Ti metto al sicuro E poi ci vediamo Ci vediamo venerdì Mo ti faccio una culle Ha visto? Dov'è la testa? Che non c'era nessun pericolo Oh mio dio Dov'è la testa del mech? Dov'è la testa del mech dottore? Dottore Dov'è la testa del mech? No No Oddio la bruciata Beccio di te Merda Assasino Muorirai per questo Muorirai Muorirai per questo Questo per me è troppo No la sacra potenza Io vado via Ma non vuole neanche Ciri ciao jump M Non sei M Signor dottore Scusi Lei Sì mi dica Lei chi è? Io sono un detective Avevo proprio bisogno di lei Venga Mi dica Lei è il detective? Ciccio Oh bella Detective Ciccio Ho trovato quest'uovo A po' a blu Che fa bra E dovrebbe schiudersi Tecnicamente A breve Lei sa come si cova un uovo? Lei è un detective Dovrebbe andare Posso ispezionarlo? Aspetta Sta scalciando Sta scalciando Scusi Ok Non si preoccupi Diceva? Posso Posso ispezionarlo? No 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 Lo devo tenere solo io Ah ok vabbè Non può Posso vederlo esternamente? Certo Allora Ma lei per caso Ha fatto almeno 5.000 passi Con questo Uovo? No Sa Leggenda narra Che Si schiudono Con i passi E con l'amicizia Del suo padrone Come nei pokemon Si Ah a posto Grazie Di nulla Arrivederci Arrivederci Ah il pagamento ecco Si Cortesemente Qualsiasi cosa Offerta libera Lei è proprio un figlio di buttana Scusi Sono troppo povero Ma che cos'è sta zigurat Ma chi è il cafone Ma avete fatto una zigurat In mezzo al cazzo Ma che è sto posto Va bene Ma ti pare che uno deve girare a casa E beccarsi delle zigurat Va bene Devo andare poi a esplorare Tutte le case degli altri Ma lo farò nei prossimi episodi Allora Abbiamo l'uovo di goldo Adesso sappiamo come farlo schiudere Dobbiamo fare tutti questi passi Anche se dubito Devo solo volarlo È stato comunque Scusi Chi è lei? Io sono Chris Sparpol Ah Chris Infatti avevo capito bene Ciao bro Ciao ciao Dov'è il creatore? È andato per quella direzione E poi è andato in miniera Cioè quella dove sto spadando È andato in miniera da solo? Non lo so Ho detto Devo capire come si gioca a Minecraft Va bene Lo vado a cercare E Tu hai idea di come vada covato quest'uovo? Allora Secondo me Lo devi mettere tipo in mezzo alle gambe Come fanno le galline E poi scaldarlo per bene Può essere anche questo Ciao Cristo Ciao Boldo Oddio Sedia Sedia C'era il tuo creatore qua fino a poco tempo Fa Sedia Sedia è tutto ok? Sembri silenzioso Eh raga Scusa non avevo premuto il microfono Non cliccare quello che hai mai Fermo No Allora no Non lo clicco Però io praticamente mi sono risvegliato qua E Perché sto qua? Io ero Stavo facendo Allora Vi dico che è successo Sì C'era il tizio Franconio Franconio Ok Che mi ha detto Quello stronzo Mi ha detto Che Potevo avere il cisel O comunque mi faceva tipo un incantesimo una cosa E E E poi Non mi ricordo più niente Mi sono risvegliato là dentro Allora Prima c'era Un Una persona Chiamata Cioè che si è definita il tuo creatore Che era là e parlava con noi Però bro No aspetta bro È che Però bro si è appena svegliato Lascia stare Non capisco una sega No tranquillo bro Eh Tranquillo Ma che parli Ma non capisco Ti senti mal di testa Che succede? Vuoi un entero germina? Mmm Allora Io Ma chi è smontato il letto? Eh Ma Io non l'ho messo Ma sicuramente Leo Però era nel mio inventario Io invece bro Ho trovato Quest'uovo Che fa bra Non so cosa sia Eh In realtà so molto bene Cosa sia No Ma perché tutti lo vogliono? Tutti lo chiedono Tutti lo vogliono L'uovo di qua L'uovo di là No Non glielo darò No è mio È mio Solo vederlo No Eh ok Cioè nessun problema Fra Cioè calmati Guarda che comunque Non è un po' Scusa che me lo stanno chiedendo tutti È un po' nervoso Stasera Ma che lo devo mettere nella fornace? Ma perché c'è scritto Tizi dittatura Sopra il mio coso? Stavo per brugare colto Va bene ragazzi Io a questo punto Ho il mio ovetto Che coverò Da oggi Fino a mercoledì Ci vediamo mercoledì Con la sfida Vi do una buonanotte Ciao ragazzi Ciao ragazzi Mi fa paura Lo sapevi Amici E con questa Si conclude La prima puntata Di Pandora Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Cosa è successo oggi? Quindi Ci siamo scongelati Troppo tardi Ci hanno introdotto In questo mondo murato In cui non possiamo uscire Dalle mura C'è qualche creatura Particolare Qualche forza malvagia Abbiamo Abbiamo visto Che hanno inventato Il Cisel Che non so A cosa serva Non so quanto sia servita Ma soprattutto Ho fatto le prime alleanze Ma soprattutto Un mondo violento Ma soprattutto Signori Goldo è canonico Goldo ci sarà davvero Mercoledì Schiudiamo l'uovo Fanculo